Musica Musica Questa Lamborghini Gallardo LP560 è entrata nella polizia stradale nel 2008. Dopo 140.000 km in servizio sulle nostre autostrade continua ad essere apprezzata come protagonista di numerosissime iniziative di educazione alla legalità e in eventi benefici a cui partecipa. Le Lamborghini, oltre all'azione deterrente per la visibilità in autostrada, stringono un'alleanza tra uomo, autoveicolo e sicurezza per le dotazioni tecnologiche di bordo. Un occhio elettronico collegato alla sala operativa della polizia stradale consente lettura automatica in tempo reale delle taghe agli automezzi che entrano nel suo campo visivo e fornisce alle agenti le informazioni relative ai mezzi segnalando eventuali irregolarità. Lo stesso occhio dotato di GPS con il sistema provita calcola in tempo reale la velocità dei veicoli rilevando le infrazioni al codice della strada che laddove possibile sono immediatamente contestate al conducente con un verbale stampato sul posto. 5200 centimetri cubi di cilindrata, 10 cilindri a V, 560 cavalli, cambio a 6 marce e 325 km orari di velocità massima. Freni a disco autoventilanti sostenuti da sistemi ABS ed ESP. Hai detto 325 km orari? I 68 agenti tra uomini e donne che svolgono servizio su questa autovettura hanno ricevuto una particolare preparazione oltre a frequentare uno specifico corso di guida sportiva tenuto proprio dalla casa madre Lamborghini. Oltre all'equipaggiamento ad alta tecnologia presenta la tradizionale dotazione di servizio, l'alloggiamento per l'arma e quello per il distintivo manuale di segnalazione, l'apparato radio VHF e l'estintore. Chissà come sarebbero stati orgogliosi i poliziotti del passato se avessero avuto un mezzo così veloce e decisamente prezioso per il trasporto organi e di medicinali. È proprio questa la straordinaria funzione della Gallardo, il pronto intervento sanitario. Nel bagagliaio uno speciale frigo box per il trasporto urgente di organi e plasma. Dispone anche di un defibrillatore e di una cassetta di pronto soccorso. Oltre al servizio consul e autostrade assolve numerosi impegni di rappresentanza come nelle competizioni di auto d'epoca. Una Gallardo a New York ha sfilato al Columbus Day. La Lamborghini Polizia con il motore V10 da oltre 300 km orari e una vera supercar nella Livrea Polizia.